Siracusa controllo territorio, i poliziotti denunciano un uomo in città e due alentini. Agenti della volante hanno denunciato un siracusano di 28 anni per inosservanza all'obbligo di dimora. Nell'ambito dei controlli del territorio, osservanti misure del dispositivo anticoronavirus, gli agenti in servizio presso il commissariato di Alentini hanno denunciato un giovane di 19 anni per il reato di falsa dichiarazione in atto pubblico e un 31enne per il reato di resistenza pubblico ufficiale. Cinturato il territorio di Alentini con pattuglie degli agenti del commissariato di Alentini insieme al personale del reparto prevenzione crimine di Catania. Nella sanità di ieri è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio identificando 14 persone, controllando 9 veicoli e 3 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Nell'ambito dei controlli del territorio di Alentini